Hai altri obiettivi che vorresti che magari questo voto ti permettesse di raggiungere a te, ma anche alle imprese che rappresenti in qualche modo? No, Salvini, come diceva Gangi poco fa, il primo interesse è quello di avere una stabilità, una governabilità, una stabilità di governo nel tempo. Questa è sicuramente un desiderio, un'aspettativa che abbiamo tutti. Poi io, mentre Impresa Azzurra ha sempre lavorato e lavora tuttora con impegno nel rapporto tra imprenditoria e istituzioni, noi come nuova organizzazione di imprese ci siamo sempre occupati della produzione di lavoro, del business in generale. Siamo gruppi di business sparsi in Italia e nel mondo, quindi lavoriamo per questo. Perciò quello che ci auguriamo, oltre alla governabilità, è che si inizia a discutere per un piano industriale per quest'Italia, quindi un business plan nel lungo periodo in cui ci sia una programmabilità degli investimenti fatti, anche perché il PIL che noi abbiamo, per quel che si riesce, per quel che è stato il rinforzo del PIL, l'abbiamo avuto tutto attraverso l'export. Mentre bisognerebbe guardare molto di più al mercato interno.